Le polemiche sul palco dinanzi alla Basilica di Collemaggio diventano anche un caso politico con le minoranze che tramite un'interrogazione presentata dal consigliere Simona Giannangelo e sottoscritta da tutta l'opposizione chiedono le dimissioni dell'assessore all'urbanistica Francesco De Santis. Il motivo? Un post pubblicato sul profilo privato dell'assessore nel quale, con un linguaggio che dire colorito è poco, critica coloro che hanno osato criticare la posizione del palco con appellativi che non sono piaciuti alle opposizioni ma non solo. Il palco posto dinanzi alla Basilica di Collemaggio lo abbiamo visto tutti. Un palco in grado di oscurare una facciata e di porre in grave pericolo la circolazione di tutte quelle persone che in questi giorni affolleranno quell'area. Ci sono state molte dichiarazioni, ci sono state molte critiche. Un assessore comunale si è permesso attraverso un post sul proprio profilo Facebook di usare parole gravissime per contenuti e per forma dicendo che tutti coloro che avevano espresso critiche sono quelli che ieri erano dalla parte di chi si drogava. Non voglio ritornare sul contenuto del post perché l'ho puntualmente riportato nel testo dell'interrogazione. Interrogo la Giunta ed il Sindaco su questa gravissima vicenda. Con me lo fanno tutte le minoranze consigliari che hanno firmato l'interrogazione. Vogliamo una risposta scritta e orale dal Sindaco e dalla Giunta perché essere un assessore comunale significa rappresentare una comunità, avere degli obblighi morali prima che politici verso l'intera comunità. Sono parole vergognose che screditano e sviliscono l'intera amministrazione. Noi chiediamo nel corpo della interrogazione che ci siano le dimissioni di questo assessore.